La città di Pesaro mette in bacheca un'altra medaglia d'oro, è quella di Emanuele Gambini, proclamato campione del mondo di Tetratron nella categoria Master Over 50, l'ennesima medaglia portata a casa dallo sportivo pesarese che, tornato dopo l'impresa di Budapest, ha raccontato la sua esperienza, dalle sfide al trionfo fino alla nomina come consigliere mondiale di Pentatron a livello Master. Sono felice e lieto di aver portato questa medaglia a Pesaro, l'ennesima, ma quello che è più importante è che per me il Tetratron è uno sport nuovo, ho affrontato una nuova sfida, quella della scherma, che l'ho aggiunta al nuoto e al laser run che già praticavo, quindi diciamo che è un risultato per me che era inaspettato perché essendo la prima volta nei vari sport si prendono anche dei punteggi con delle penalità, quindi non era facile portare a casa sicuramente questo risultato e ne sono molto orgoglioso. L'emozione è stata tanta perché affrontando uno sport nuovo come la scherma ho fatto la prima giornata a metà classifica, il nuoto era andato molto bene, ho fatto il mio personale sui 100 metri, ho fatto un minuto e 0,8 che per me rappresenta un risultato molto importante perché venivo da 1,9-1,10 fatto sei anni fa, quindi mi sono migliorato nonostante l'età, nei Master 50 appunto mi sono migliorato anche come tempo e poi tutta la gara si è giocata nel laser run che è praticamente una combinata di corse e tiro e lì addirittura sono partito con un minuto e 24 di penalità, quindi capite bene un minuto e 24 è parecchio tempo doverlo recuperare su un tedesco che era alto 1,94 e ex olimpionico e un francese che aveva fatto prima di me, molto meglio di me a nuoto, non è stato facile, li ho raggiunti nell'ultimo giro dei tre e lì mi sono giocato nella corsa tutto il possibile ed ho vinto. Mi porto a casa una bellissima esperienza e poi fra l'altro a margine della gara c'è stata anche la votazione al board mondiale del Pentaton e sono stato eletto consigliere mondiale del Pentaton a livello Master, quindi anche quella un'ottima soddisfazione perché era una new entry, un nuovo candidato al board del Master e quindi avrò tanto impegno anche da dedicare al Pentaton Master.